Circa 6.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata per l'ottava ricorrenza del terremoto del 6 aprile del 2009 che ha distrutto l'Aquila. Il corteo è arrivato in piazza Duomo intorno alla mezzanotte e mezza e poco dopo è iniziata la lettura dei nomi delle 309 vittime anticipata dalla frase e loro non ci sono più. In prima fila gli striscioni dei familiari dei defunti, dei genitori dei ragazzi morti alla casa dello studente e di tutti coloro che hanno subito i sismi più recenti del centro Italia. In piazza c'erano anche i gonfaloni della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e delle città di l'Aquila e di Rieti. Negli ultimi tre anni abbiamo messo 13 miliardi di euro sulla ricostruzione dell'Aquila, oggi il 77% delle famiglie che era dovuta uscire di casa è rientrata in casa propria, la ricostruzione privata quindi è a buon punto, prevediamo di completarla nel centro storico entro il 2020, nella città entro il 2022 e la ricostruzione pubblica è al 50%, qui bisogna accelerare. Diciamo che è ancora un cantiere aperto, anche quello legislativo, perché le ricostruzioni vanno aggiornate man mano che si presentano i problemi e man mano che le cose vanno avanti e i risultati del 2016 comunque sono positivi. Qualche partecipante ha ascoltato la lettura dei nomi in ginocchio sul selciato della piazza e alla fine sono stati ricordati i morti del sisma del centro Italia, della terra dei fuochi, le vittime dell'amianto e quelle di San Giuliano di Puglia. A scandire il tutto i 309 rintocchi della campana della chiesa delle anime sante è tornata a suonare da pochi mesi nell'ambito dei lavori di ricostruzione confidanziati dalla Francia e ormai quasi terminati. All'una la fiaccolata è terminata ma molti hanno scelto di assistere alla messa celebrata dall'arcivescovo metropolita Monsignor Giuseppe Petrocchi all'interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano. Alla funzione tra gli altri hanno preso parte anche il prefetto Giuseppe Linardi accompagnato dai vertici delle forze dell'ordine. A conclusione della messa c'è stata la veglia finale fino alle 3.32 nella cappella della memoria accanto alla chiesa delle anime sante.